Buon saluto a tutti, non mi ero accorto che l'immagine era già partita. Vi volevo salutare rapidamente e spiegarvi il motivo perché sono mancato da questo canale da un bel po' di tempo. L'ultimo video l'ho fatto a settembre. Mi sono dedicato a sviluppare applicazioni per l'iPhone. Adesso la prima applicazione che ho sviluppato è presso la Apple, che la sta vedendo per vedere se risponde ai requisiti, se funziona, eccetera. E quindi prossimamente sarà disponibile sul... speriamo, insomma, chiaramente non posso garantire, però mi auguro questo. E quindi prossimamente quando sarà disponibile sul sistema iTunes Store ne parlerò, farò un piccolo video di presentazione anche su questo canale. Nel frattempo cerco sempre Betatester per provare queste applicazioni, proprio perché ogni volta che viene trovato un bug dalla Apple sono praticamente due settimane di tempo perse, quindi prima riesco a individuare questi errori, diciamo... meglio è, insomma, prima che le trasmetto l'applicazione alla Apple. Tutto qua. Adesso sto parlando, non so, già cominciando a preparare una nuova applicazione, non ne parlerò chiaramente, insomma, per ovvi motivi. E allora, quindi questo è tutto, spero che non vi siate dimenticati di me. E quindi dopo ho passato il periodo della scrittura, adesso sono ritornato al periodo dello sviluppo software. Sdk della Apple non è male, anche se ogni tanto da dei risultati un attimino sconvolgenti, tipo due righe identiche, una funziona e una nuova, insomma, si sta lavorando. E quindi, caro saluto e ci rivediamo, incrociando le dita, alla presentazione dell'applicazione, della prima applicazione. Un caro saluto! Grazie a tutti!